Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo del film La Storia di Suleiman, del regista francese Boris Lojkin. Un film che con pochi mezzi riesce a dire tantissimo su una nuova forma di schiavismo travestita da progresso in un'Europa che da una parte dice no, noi gli immigrati non li vogliamo, mentre dall'altra parte tiene aperte tutte le porte possibili perché noi evoluti europei, senza questi ragazzi che arrivano soprattutto dall'Africa, non riusciremmo più nemmeno a soffiarci il naso. Ma non solo, paragonerò questo film ad un altro titolo di cui abbiamo già parlato nel canale, che su un tema praticamente identico ma con il triplo dei mezzi, sia tecnici che economici, è riuscito a non dire un cazzo. Com'è possibile tutto questo? Ovviamente conta la sensibilità. La sensibilità della voce e dello sguardo che racconta la storia. Senza la sensibilità sono tutti solo dei gran paraculo. Vai con la sigla! Suleiman è un ragazzo della Guinea emigrato in Europa, precisamente in Francia, a Parigi. Per guadagnare qualche euro fa il rider, cioè consegna da mangiare a domicilio. Il mezzo preferito dei rider è la bicicletta, perché ti permette di eludere il traffico cittadino e quindi di consegnare in poco tempo. Il tempo per i rider è un elemento fondamentale, perché prima consegni, prima riesci a prendere un altro ordine. E di conseguenza più ordini riesci a consegnare nell'arco della giornata, più guadagni. Cosa che sinceramente non sapevo che ho scoperto guardando questo film, è che esiste un vero e proprio mercato nero degli account di questi rider. Perché se non hai i documenti in regola, ovviamente non puoi essere né assunto né pagato da nessun datore di lavoro, perché legalmente non esisti. Gli immigrati che però hanno già un permesso di soggiorno, o i documenti in regola, e che hanno già un account attivo con una multinazionale del delivery, come Glovo o Just Eat, per citare le più famose, cosa fanno? Subaffittano il loro account ad un altro immigrato che invece non ha i documenti in regola. Chi non ha ancora i documenti riesce così a lavorare e a tirare su qualche euro, pagando ovviamente una percentuale a colui che gli ha subaffittato l'account. A sua volta, l'immigrato che ha subaffittato l'account ha tempo per fare anche un altro lavoro e quindi guadagnare di più. Questo punto del film mi ha lasciato davvero perplesso, perché dall'esterno uno si immagina che tra immigrati ci sia una sorta di solidarietà, una rete sociale, in un certo senso una fratellanza. Invece, almeno in questo film, tutto questo è quasi completamente assente. La filosofia del cane mangia cane tra gli immigrati è decisamente in primo piano e fa soffrire lo spettatore per due motivi. Primo, empatizzi subito con Suleiman, che è il primo a stupirsi con noi, che gente del suo stesso paese non perde occasione di fregarlo o di sfruttarlo. Secondo, il regista è molto ma molto bravo a farci intuire tra le righe che quel tipo di atteggiamento gli immigrati lo hanno imparato da noi, da noi europei. E' proprio un sistema che funziona così. E questi ragazzi, nel momento in cui riescono a salire anche un piccolo gradino della, chiamiamola, scala sociale dell'immigrazione, si dicono, nessuno ha aiutato me, perché io dovrei aiutare qualcuno? C'è così poco per questi ragazzi che davvero si crea una rete di sfruttamento a 360 gradi e sembra non esserci via d'uscita. Nel film seguiamo Suleiman in alcune sue giornate tipo, fatte principalmente di consegne durante il giorno e di notti passate in un centro accoglienza dove possono dormire quegli immigrati che ancora non hanno i documenti in regola e che sono in attesa di essere interrogati dall'ufficio nazionale francese che concede l'asilo politico. Perché è talmente difficile ottenere un semplice premesso di soggiorno, la cittadinanza non la nominiamo nemmeno, che questi ragazzi, dopo aver viaggiato dall'Africa all'Europa, nei modi e con i mezzi che conosciamo benissimo, cioè trattati come bestie, ammassati nei barconi, viaggi costosissimi tra l'altro, spogliati di tutti i loro averi, minacciati di morte, torturati, in balia della ormai famigerata mafia libica che di fatto gestisce la tratta dei migranti, protetta dal potere politico occidentale ed europeo soprattutto, con profitti allucinanti. Insomma, dicevo, dopo aver sopportato tutto questo, questi ragazzi provano a chiedere l'asilo politico studiandosi a memoria delle vere e proprie sceneggiature che chi ha già ottenuto l'asilo politico scrive per loro, ovviamente in cambio di un lauto compenso. Che qui di gratuito c'è solo la cattiveria. Ed è proprio questa la storia di Suleiman a cui fa riferimento il titolo del film. La storia che lui si deve imparare a memoria da ripetere durante il colloquio con l'ufficio nazionale che concede l'asilo politico. La storia di Suleiman, quella scritta apposta per lui, è una storia di persecuzione politica, di mesi di carcere duro, solo perché ha osato opporsi a un regime. È una storia di attivismo, di ribellione. Il problema è che Suleiman non è niente di tutto questo. La vera storia di Suleiman, quella che lo ha spinto a lasciare il suo paese d'origine per cercare fortuna, è la storia di un ragazzo che ama talmente tanto sua madre malata che ha pensato in Europa c'è sicuramente più lavoro, con i soldi che guadagnerò lì riuscirò a curare mia madre. Non è una storia di fuga da una guerra, o come quella inventata per lui di fuga da una persecuzione politica. È una storia semplice, è una storia di emigrazione che per noi europei potrebbe non essere abbastanza per dire ad un ragazzo come Suleiman «Bravo, le tue intenzioni sono condivisibili, eccoti il tuo permesso di soggiorno, vai a cercarti un lavoro». No, noi da una parte distinguiamo tra migranti di serie A e migranti di serie B, con accordi politici con determinati paesi che aiutiamo a prescindere, mentre gli altri possono tranquillamente crepare affogati nel Mediterraneo. Da un'altra parte però abbiamo bisogno di questi nuovi schiavi per farci portare da mangiare a casa. Questa particolare immagine mi fa venire letteralmente i brividi, perché pensate all'iconografia più classica dello schiavo. L'uomo con la pelle nera che viene preso in Africa, messo su un barcone, scaricato in mezzo alla civiltà, venduto alle famiglie ricche per fare cosa? Per lavorare nei campi o per servire da mangiare. Sono passati quasi 500 anni, perché i primi schiavi dall'Africa in Europa sono arrivati attorno al 1520, e siamo ancora qui. Siamo ancora completamente immersi nel ruolo del padrone bianco che non ha voglia di scendere di casa per andare a prendersi una pizza, e quindi accetta di pagare quei 12-15 euro in più per farsela portare da Suleiman, che è a tutti gli effetti uno schiavo. Schiavo di una società composta da schiavi a loro volta. Perché chi usa queste app di delivery è schiavo di un'idea di società e di economia, soprattutto, completamente distorta. Lavoro nel settore della ristorazione. Vi posso dire con totale accuratezza che la pizzeria o la paninoteca, con il panino o la pizza consegnata da Glovo o da Just Eat, non ci guadagna niente. Le percentuali che chiedono queste multinazionali sono altissime, arrivano fino al 40% dello scontrino. Cosa paga chi usa queste app? Cosa compra realmente? Paga il fatto che si toglie il fastidio di uscire di casa e andarsi a prendere la pizza. E il prezzo di questo fastidio lo paga Suleiman. Non lo paghiamo noi, non lo pagano le multinazionali che guadagnano. Lo paga completamente un ragazzo che ha rischiato la vita per attraversare il mezzomondo e arrivare in Europa, con la speranza di un lavoro pagato decentemente per curare la madre malata. Ci dispiace Suleiman, ma questa motivazione per noi non è abbastanza per metterti in regola. Ma è sufficiente per farti fare il rider illegalmente. Perché se no, chi ci porta da mangiare? Elemento che mi fa sempre effetto quando guardo film che parlano di migranti, come per esempio il fondamentale Green Border. Se non lo avete ancora visto, ne abbiamo parlato, vi metto il video qui. Ragazzi, non scherzo, Green Border va visto il film più importante degli ultimi 30 anni. Comunque dicevo, quando guardo questi film che raccontano storie di migranti, mi fa sempre riflettere il ruolo dello smartphone. Senza lo smartphone, in particolare in questo film, Suleiman non può lavorare, non può prenotare il posto letto nel dormitorio, non avrebbe delle mappe da seguire e non potrebbe parlare con la madre malata. Per Suleiman e per tutti i migranti come lui, la batteria dello smartphone è sacra, non come noi che la bruciamo scrollando shorts di ricette e gattini. Queste cose mi fanno realmente riflettere su come la stessa identica tecnologia, in mano a due, tra virgolette, civiltà diverse, possa assumere significati e utilizzi così diversi. Per noi benestanti occidentali, lo smartphone o gli smartphone, perché parecchia gente ne ha più di uno, è l'interruttore che ci spegne il cervello. Per i migranti, gli smartphone, letteralmente, sono smartphone. Sono un mezzo tecnologico che a tutti gli effetti migliora loro la vita. Questo film mi ha molto colpito per due motivi. Il primo che, anch'io, per arrotondare, è la vita. Faccio il rider, anzi il driver, perché uso la macchina. Non consegno cibo già pronto per essere consumato, ma consegno spese, spese a domicilio, quelle che si fanno al supermercato. Non dirò per quale azienda faccio questo servizio, ma posso raccontarvi che questo è un lavoro che faccio davvero con piacere. Ovviamente lo faccio saltoneamente quando ho tempo, perché non è la mia entrata principale. Ma è un lavoro che faccio volentieri, perché le persone che ordinano la spesa a casa, ognuno di loro ha la sua storia. C'è il gruppo di studenti fuori sede che non hanno la macchina, c'è la figlia che fa la spesa per la madre anziana, c'è la coppia che ha avuto il figlio da poco e quindi non riesce ancora a organizzarsi per andare al supermercato. Ovviamente per me è un altro lavoro rispetto a quello di Suleyman e ho altre necessità, però io credo davvero che nel lavoro del Rider ci sia del bello, ma è sbagliato l'approccio filosofico del padrone e dello schiavo. E in questo film la parte brutta di questo approccio viene raccontata in maniera brutale. Qualche mese fa qui sul canale, ve lo metto qui, ho parlato del film di Matteo Garrone, Io capitano, che racconta quello che nella storia di Suleyman non vediamo, ma che viene narrato dal protagonista, a voce. Cioè il viaggio che questi ragazzi fanno dall'Africa all'Europa, in particolare l'Italia, che è la porta girevole del sud Europa. È il primo porto. In Io capitano assistiamo al viaggio di due ragazzini che sognano una vita migliore in Europa. Un viaggio terribile tra mercenari, criminali, torture, lavori forzati. Davvero un'odissea del dolore. E come finisce il film? Spoiler! Con le coste siciliane in lontananza è loro che festeggiano per il successo del loro viaggio. Perché la loro missione è compiuta. Sono arrivati. Ricordo che quando ho finito di guardare Io capitano di Matteo Garrone ho avuto un rush di rabbia. Perché l'ho trovato davvero un film di propaganda. Manca tutto il dopo. Ok, siamo arrivati e dopo? Il dopo che è esattamente quello che ti racconta la storia di Suleyman. Manca il viaggio non fisico, ma dantesco nel labirinto della burocrazia e nelle trappole del dover comunque sopravvivere in qualche modo in un sistema che complica apposta le cose così poi sei costretto ad affidarti alle mafie e alla malavita. Così tutta la narrativa del potere può rimanere in piedi. Cioè questi sono tutti criminali, vengono a rubare, a violentare le nostre figlie. Così la politica continua a ingrassare l'opinione pubblica di propaganda e contemporaneamente chiude un occhio sulle mafie che quotidianamente trovano nuova mano d'opera per lo spaccio, per il lavoro nelle campagne o, peggio, per la prostituzione. E ovviamente ingrassa anche chi non ha voglia di scendere di casa per andare a prendersi la pizza da solo. Tra il viaggio di Suleyman e io capitano di Matteo Garrone c'è una differenza sostanziale. Il primo film racconta la storia, nel senso l'attualità, con una fortissima denuncia a noi stessi, a noi europei, a quest'Europa che aiuta moltissimo sulla carta, ma poco nella pratica. Il secondo, cioè io capitano, racconta che noi, l'Europa, l'Italia, non facciamo parte del problema. Anzi, noi siamo la soluzione, noi siamo la salvezza. Vomito. Che birra abbiniamo a questo film, la storia di Suleyman? Allora, non abbinerò una birra per rispetto alla maggior parte di questi ragazzi che arrivano dall'Africa e che sono musulmani, che quindi non bevono alcol, ma ho deciso di bere una kombucha. Abbiamo già parlato delle kombucha in questo canale. La kombucha fondamentalmente è un tè fermentato. E ho deciso di abbinare un tè, anche se fermentato, a questo film, proprio in onore del paese di origine di Suleyman, cioè la Guinea, che è un paese dove, diciamo, le tre bevande principali sono appunto tre tè. Uno a base di menta, uno a base di fiori di ibisco e uno a base di zenzero. In questo caso mi sta però una kombucha di Life Barrels, anche di loro abbiamo già parlato, sono un po' i numeri uno della kombucha in Italia, che viene simpaticamente chiamata kombu-cola, perché è una kombucha con del caramello che nell'intenzione di questa fermenteria, perché così vogliono essere chiamati, cerca di riprodurre il sapore della Coca-Cola. La kombucha nel bicchiere si presenta esattamente come si deve presentare, cioè con un bel color Coca-Cola, senza schiuma, con una frizzantezza percettibile allo sguardo, perché vedo delle bollicine che saltano fuori dal bicchiere. Wow, il naso sembra davvero una Coca-Cola, impressionante. Si avverte molto il profumo delle caramelle al caramello, o delle caramelle alla Coca-Cola, perché la sensazione olfattiva promette una bevuta comunque molto dolce. Andiamo ad assaggiare. Al naso si sente anche una zesta di limone, così, appena appena accennata. Wow, madonna fantastica. Con una leggerissima acidità finale, estremamente dissetante, sa di Coca-Cola, è impressionante, eppure dentro c'è tè verde, tè nero e caramello, e ovviamente il funghetto della kombucha che fermenta. Bevanda strepitosa, consigliatissima. Quindi la storia di Suleiman, forse l'ho trovata ancora al cinema, non lo so. Film consigliatissimo, fateci anche una bella riflessione sopra. Abbinato alla kombu-Cola della fermenteria Life Barrels, questa è una bevuta che vi straconsiglio. E dalla versione di Barley tutto. Buona visione, buona bevuta, non fermatevi alla prima. Ciao! Buona visione, buona visione, buona visione.